C'è il divieto ma ciò non impedirà comunque la presenza di un migliaio di tifosi rossoneri che giovedì daranno il loro sostegno al Foggia chiamato ad una nuova impresa per continuare ad inseguire il sogno della Serie B e sbarcare in finale. Il settore ospiti dello stadio adriatico resterà infatti aperto così come in occasione della gara di andata fu aperto quello dello zaccheria. Solo che mentre nella sfida di domenica furono poco più di una sessantina i tifosi pescaresi non residenti nella provincia abruzzese a raggiungere lo zaccheria la cosa sarà decisamente diversa giovedì sera. Già da stamane in tantissimi hanno affollato la piattaforma di Viva Ticket per accaparrarsi i biglietti. Si tratta ovviamente di tifosi rossoneri residenti fuori dalla capitanata che sono pronti a colorare lo spicchio al loro riservato e a dar manforte alla squadra di Dele Rossi che sin da ieri ha ricominciato a lavorare per preparare la sfida. A Pescara l'allenatore del Foggia dovrà fare a meno degli squalificati Contec e Di Noia da verificare la situazione legata ai tanti incerottati che affollano l'infermeria. E' il caso dei vari Peterman, Friggerio, Auger e Beretta giusto per fare qualche nome. Domani dopo la rifinitura Dele Rossi avrà le idee più chiare poi sarà battaglia sul campo ci saranno almeno 90 minuti in cui combattere per non interrompere sul più bello il sogno.